Ciao sono Riccardo e sono qui al campo da tiro che mi sto allenando con Michele Sideri e ci stiamo allenando per la Future Cup edizione 2022. Michele dove si svolgerà quest'anno la competizione? La competizione di quest'anno sarà al TAF Cegli Aperti a Bergamo, disputeremo questa gara dove abbiamo messo un monte premi di 2.000 euro, due calci Futur K6M che disputeremo in due separati barrage. Ottimo, vi aspettiamo numerosi. Ciao a tutti.